Ieri i gruppi scout a GESCI e CNJ di Matera hanno iniziato la consegna porta a porta per raggiungere tutti i cittadini che non sono potuti venire a prendersi la bandiera perché comunque la cittadinanza si sente attiva, vuole partecipare e quindi portiamo le bandiere, loro le decorano e sono tutti molto felici, ci aprono le porte, ci fanno entrare in casa quindi va bene questa consegna. I due gruppi scout CNJ e GESCI insieme perché Matera 2019 è anche questo, unione e condivisione. Sì, soprattutto ci sta dando la possibilità di condividere questo percorso e di confrontarci su quello che vogliamo dalla nostra città per il futuro insieme, per i nostri ragazzi perché stiamo comunque sensibilizzando nei nostri gruppi la partecipazione dai più piccoli ai più grandi. Quindi abbiamo dei momenti di contatto fra di noi e speriamo che questo percorso continui anche dopo questa prima esperienza.